106. All'esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, PUL, tutela patrimonio artistico, i Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, TPC, hanno rimpatriato dalla Germania un antico manoscritto dell'astrologo francese Michel de Nostredame, 1503-1566, più noto con lo pseudonimo di Nostradamus, trafugato in epoca imprecisata dalla Biblioteca Generalizia del Centro Studio Storici Barnabiti di Roma. Si tratta dell'opera in latino dal titolo Profetie di Michele Nostradamo. Gabriella Brancaccio, pittrice e sensitiva, da molti anni riceve comunicazioni di Michel di Nostradama, in italiano seicentesco. Questa è una delle prime comunicazioni. Michel sta, è da molto, divinite menti di fraternità, cambiate i concetti, combattete la realtà di pensieri negativi, poiché vi portano solo ad essere malati. Partecipante, ma lo siamo tutti malati. Questo perché vi contaminate l'un l'altro di pensieri non più ossigenati. Che vi sia di monito e lezione. Potete da ora parlare e sapere di tutto.